buongiorno ragazze benvenute nel micesso un'altra volta eccoci qua con un nuovo make up questa volta ho fatto tutto in stile blu molto cleopatra mi sento molto cleopatra con questo trucco e so un po giù di corda e avevo voglia di fare un make up insomma un tutorial con voi così almeno chiacchie non ci penso poi mi sono accorta girando il video insomma truccandomi che sono stata un po in parola ragazze nulla vi lascio subito ai tutorial scusatemi per oggi che sono un po giù di corda e ci sentiamo spero a meglio ecco un bacione ciao ragazze buon pomeriggio e buona domenica ci sentiamo ok ragazze ho già passato la base di crema anzi ve lo volevo far vedere allora mi hanno mandato in omaggio questa questa cremina da bottega verde che si chiama age suplem che è fonte di luce e di perfezione alla confezione si apre così e si presenta tipo stellina io ho già iniziato a usare il contorno occhi che ce ne sono due all'interno ve lo faccio vedere questo e questo e poi ci sono due cremine qua una per giorno e una è saltata e una per notte c'è una piccola c'è un piccolo un mignon dentro di un campioncino proprio mignon e serve per per illuminare la pelle per sopra bianca diciamo così va bene ho passato quella cremina stamattina la passo la sera e la mattina e poi ho passato il correttore fondotinta un filino di cipria ho sistemato le sopracciglia con con la mattina anche questa che ho preso da bottega verde che è questa qua che ve la faccio vedere oh mamma mia eccola qua è extratenuta questa buona allora e adesso passo la passo la base per gli occhi questo della chico il primer ok anche questo dovrei eliminarlo come come pezzo del video perché tanto da non c'è non non è che serve a tanto ragazze ecco ok tanto e i passaggi sono sempre ma della della pastello neve cosmetics e inizio a passare le la matita qua sopra il punto che voglio illuminare e vado a sfumarla un po in basso vai ragazzi ok idem faccia di qua oh sto facendo ricrescere le le sopracciglia vediamo che cosa salta fuori se ce la faccio questa volta ok e adesso voglio illuminare anche la parte interna dell'occhio quindi vado a passare la matitina qua e la sfuma ecco qua base creata adesso vado a prendere il mio pennellino piatto della come si chiama della della essence e vado a passare la mia base bianca prendo che questo questo ombrettino della chico che il numero 169 e vado a passarlo quassù c'è dentro dei micro gritterini mi piace proprio tantissimo stamattina ragazze sono andata che se del piano a fare la tac perché lo sapete che c'ho questo dolore alla schiena ora sto un pochino meglio in questi giorni però c'è visto che c'è stato questo dolore e e ho dovuto riprendere quelle goccioline di contramal che sono un po fortine ecco diciamo così ho preferito fare fare una tac per vedere che cosa che cosa c'è che non va se c'è dolore possibile sia un po di infiammazione al nervo sciatico però io lo spero con tutto il cuore perché c'ho una fifa che non vi dico ragazze proprio insomma stamattina sono andata a fare questa tac a Castel del Piano che è un paesino qua vicino e nel tornare ci siamo fermati nel bosco che spettacolo ragazze c'è tutti quei fiorellini come si chiamano io cioè si chiamano bucaneve però i bucanevi sono quelli bianchi questi qui sono sul violetta sul colore piace a me e noi qui da noi si chiamano i crochi sono una fine del mondo ragazze la fine del mondo e spettacolo sarei stata l'ora intera un'ora intera lì dentro il bosco una pace una tranquillità ragazze che bellezza la primavera è stupenda oggi ripievo un'altra volta un mattino si vuole arrivare allora ragazze adesso passo questo colorino questo celestino da questa palettina questo celestino qua da questa palettina della Rimmel ho fatto a scattuto vabbè non sarà nulla ragazze ecco è rivinto tutto a posto volevo vedere il numero però kit numero 3 si chiama allora prendo un pennellino prendo questo va della zoeva di pennellino ragazze e vado a fare proprio il centro dell'occhio come vedete è molto chiaro che bellezza c'era anche un gattino che beveva una puzzanghera d'acqua davanti all'ospedale ma ha fatto una tenerezza madonna quanto sono bellini i gattini ragazze che belli vabbè l'animale sono bellini tutti però i gattini io sono fissata o gatti ragazzi se no non sarei strega adesso vado a prendere una matita questa matita della pastello della neve cosmetics la pastello che è si chiama zaffero blu zaffero questo qua ok e vado a fare una piccola linea qui tipo come se facessi un come si dice con il eyeliner vedete Questa virgolina in fondo e poi vado a fare la solita virgolina la vado a fare qua vedete ragazze questo pennellino qua piatto della zoeva e vado a prendere il colore questo qua della kikop questo blu oddio ora scusate se non ve lo faccio vedere aperto però me è cascato io trafalciona come sono vi dico il colore è un 2 1 2 e sul trafalciona e me è cascata un terzo è andato tutto a rompere però guardate quanto l'è bello ok 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 e qui ci siamo è ragazze poi se vi esce un pochino di colore sotto fate così e ve lo levate con il pennellone io ne faccio con quest'altro occhio oggi non sono tanto in vena si vede sono un po giù di volta e ragazze c'ho una fifa se mi devo rioperare c'ho proprio paura ragazze non vi potete rendere conto come perché so l'ho provato lo so che vuol dire ma sarà che che dio vuole e poi vado a spassarlo qui sotto l'occhio è sempre quel pennellino piccino ok ragazzi adesso ho fatto questa sfumatura sopra l'occhio vado a prendere sempre la solita matitina questa blu zefiro della della pastello della neve cosmetics e vado a fare il cerchietto dentro l'occhio insomma vado a colorare l'occhio così ok adesso prendo questo questo eyeliner della della chico questo qua che è tutto glitterato vedete guardate quante pelli non so se si vede ora ecco così e oddio scusatemi lo vado a passare proprio qua su in cima ok ragazzi qui ci siamo adesso si va a prendere le ciglina finte vediamo un po' un po' di mascara prendo questo della bottega verde ecco oddio questi capelli allora come rossetto vado a prendere questo qua della glossy box che è il numero glossy pink si chiama che è questo colorino qua è nude insomma voilà come dicono in francese il trucco è finito ciao 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 ciao